Domani 14 dicembre dalle ore 18 alle ore 20 presso i locali di via Madonna del Paradiso numero 42 si svolgerà il tesseramento comunale del Partito Democratico. È un momento importante, è il primo incontro, il primo step di un percorso che vedrà la rifondazione, la ricostituzione di quello che è il circolo del Partito Democratico di Mazzara del Vallo. Domani saranno presenti i membri della Commissione Provinciale Ufficio Adesioni Trapani, di cui mi onoro di essere uno dei rappresentanti. Invitiamo tutti gli amici, i democratici di Mazzara, tutti coloro che si sentono vicini a questa grande famiglia del Partito Democratico. Tutti coloro che guardano con grande attenzione a questo Governo nazionale, tutti quelli che vogliono prendere parte a questo percorso di rinnovamento del Partito Democratico a Mazzara. Vi aspettiamo numerosi, in seguito nel mese di gennaio si avvieranno tutti i percorsi per avere il Congresso regionale, e quindi il nuovo segretario regionale. Da lì si passerà poi al Congresso provinciale ed infine si arriverà nei comuni, dove avverranno i congressi comunali e si riavranno nuovamente le segreterie del Partito Democratico. Grazie. 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 Grazie.